Buonasera e bentrovati, edizione delle 22.30 del Tg di Rete 55 con un gradito ospite che è il Presidente di Camera di Commercio Fabio Lunghi. Come annunciato, facciamo il punto insieme al Presidente della situazione economica, mirando su quella che è la grande sfida del momento, Presidente, cioè l'arrivo dei fondi derivanti dal Piano Nazionale di Resilienza, un arrivo che noi auspichiamo sia confermato nei fatti, ma che soprattutto sia sollecito, solerte e non venga sparicato. Avete le stesse preoccupazioni? Noi siamo, a dire la verità, abbastanza preoccupati in tal senso, perché parlano tutti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come la panacea di tutti i mali. Certamente è un'occasione unica, come ha detto il Presidente Draghi, da cogliere e da non perdere. Io comincio sinceramente, come rappresentante di un sistema economico, ad avere qualche preoccupazione, perché la messa a terra di questi fondi richiede tempi certi, metodi certi e soprattutto bisogna rispettarli questi tempi. Insomma, i progetti bisogna averli e farli partire nei tempi che il Piano prevede. La preoccupazione è data dal fatto che la burocrazia tipica di questo Paese, che affligge sia il sistema produttivo, ma non solo, ostacoli questa messa a terra. Io non voglio pensare questo, ma qualche preoccupazione cominciamo ad averla. Il problema in genere riguardante progetti di ampio respiro sta nelle tempistiche, è quello sostanzialmente? Sta nelle tempistiche, sì, sì, indubbiamente, perché al di là dei piani degli investimenti in infrastrutture, che quelli sono chiaramente compito del Governo e per fortuna in questa stagione abbiamo al Governo un Presidente del Consiglio, del quale abbiamo grande fiducia e grande stima, che è Mario Draghi. Quindi mi riferisco, per esempio, a tutti i progetti e alle innovazioni nel digitale, nell'ecosostenibilità, nelle new technology che sono appannaggio del mondo delle imprese e che, a nostro modo di vedere, dovrebbero essere messe a terra tramite un sistema che è tipico del mondo delle imprese, che è quello delle Camere di Commercio, perché è un sistema che già è collaudato e permetterebbe di trasformare questi progetti in realtà finanziandoli e avendone un controllo concreto. Quindi, in buona sostanza, approfittiamo di questo spazio per lanciare un appello della Camera di Commercio di Varese, ma delle Camere di Commercio in generale. Potreste essere voi a traghettare i fondi sul territorio? Certamente, il sistema camerale c'è, è attivo e operativo, la riforma è oramai quasi a compimento, sono rimaste poco più di 60 Camere di Commercio in Italia, 60 dovranno rimanere, che sono pronte a attuare il piano di ripresa e resilienza. Se il Ministero dello Sviluppo Economico, per quanto di sua competenza, con un Ministro del nostro territorio, dovesse scegliere di affidarsi al sistema camerale, come ha auspicato, io siedo anche nella Giunta Nazionale di Camere di Commercio, di Union Camere, di utilizzare il sistema delle Camere di Commercio per mettere a terra i fondi delle imprese, il sistema c'è già, è collaudato, funziona, abbiamo un accordo di competitività con la Regione e Lombardia e saremmo certi di far arrivare le risorse al mondo delle imprese, non solo, ma le Camere di Commercio libererebbero una serie di fondi che attualmente mettono sul piatto per altre iniziative. Ha citato il Ministro Competente, che è il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, conoscendo il suo pragmatismo c'è poca riserva, insomma siamo abbastanza certi che lui sia d'accordo in linea con questa impostazione, lei da chi teme le imboscate, diciamo così? Ma più che delle imboscate temo la volontà di primogenitura su questi fondi da parte dei vari ministeri, il Ministro Giorgetti è certamente dalla nostra parte, lo ha ribadito anche recentemente all'Assemblea Nazionale di Union Camere, io temo di più il sistema burocratico del nostro Paese, insomma il sistema che abitualmente deve mettere il cappello su tante iniziative e deve controllare tutto, bisogna che ci si renda conto che questa è un'occasione che non è che non si deve, non si può tassativamente perdere e quindi bisogna essere più elastici tutti, più snelli tutti e bisogna magari senza saltare i controlli quelli più importanti, quindi sull'antimafia, sull'anticorruzione e quant'altro bisogna essere pragmatici e il mondo delle imprese è pragmatico.